Ad Agrigento cresce la presenza di stranieri che cercano di integrarsi e dalla Caritas di Ocesana sorge un invito alla riflessione. Sì, nel pieno rispetto del mandato della Caritas, che prima ancora che gestire i servizi è chiamata a svolgere una funzione prevalentemente pedagogica nei confronti della comunità ecclesiale innanzitutto e anche della società civile, abbiamo pubblicato una lettera nella quale abbiamo invitato prioritariamente i cristiani della nostra provincia a riflettere, a riflettere insieme su qual è il nostro atteggiamento, il nostro rapporto con lo straniero che ormai vive accanto a noi. Ci siamo resi conto che molto spesso lo straniero si trova in una condizione di precarietà esistenziale già per il fatto stesso di essere straniero ma anche in una situazione di fragilità da un punto di vista sociale, allora l'invito che facciamo a tutti i cristiani è quello di fermarsi come comunità e come singoli a riflettere proprio sul rapporto, sul modo in cui viviamo il nostro rapporto con lo straniero, nelle nostre case, nelle nostre campagne, nelle nostre comunità ecclesiali in cui spesso, spesso, ecco, il rapporto è sbilanciato, allora è un invito, un invito alla riflessione, alla luce del Vangelo e degli insegnamenti della dottrina cristiana. ...della nostra chiesa, semplicemente per riflettere... ...invitare... ... Nigeria!